Il nuovo metanodotto Snam è stato autorizzato l'altro ieri in una conferenza dei servizi presso il settore ambiente dell'amministrazione provinciale di Cremona e porterà gas metano all'accia i riarvedi. Il percorso è stato criticato per vari motivi, anche perché interessa alcune aree naturalistiche sul territorio di Sesto e rende necessarie e spropria decine sulla stessa area su cui è stato costruito il peduncolo che collega Cavatigozzi e Spinadesco all'ex statale paullese. Il tubo della Snam sarà fatto d'acciaio, avrà diametro di 25 centimetri, mentre la pressione del gas avrà 24 atmosfere. La portata non è ancora chiarita, la finalità non è direttamente legata all'aumento di produzione, la profondità sotterranea è di circa 3 metri. Il tracciato è stato messo in discussione dagli enti locali, in particolare dal comune di Cremona, che ha chiesto di tutelare il più possibile il bosco filtro. Il percorso di 3 chilometri è stato discusso anche durante un sopralluogo in via Acquaviva, a inizio maggio, con l'assessore Alessia Manfredini e il dirigente Marco Pagliarini. La conferenza dei servizi ha deciso di apportare però solo una modifica parziale del tracciato, l'impatto ambientale danneggerà il bosco filtro, che vedrà cadere 5 o 6 alberi. L'area industriale accanto ai centri abitati di Cavatigozzi e Spinadesco è attraversata già da numerosi servizi, come le condutture di acqua, energie e gas, oltre ai binari ferroviari. La dichiarazione di pubblica utilità è stata ottenuta, come già in altre occasioni, dopo il notevole rafforzamento della rete di metanodotti e stoccaggio in provincia. I lavori potranno iniziare entro 12 mesi e prevedono l'uso di una macchina spingitubo che ridurrà l'impatto della nuova infrastruttura. Il consorzio di bonifica Dugali ad Asserio ha segnalato che il metanodotto dovrà passare sotto il collatore Morbasco a una profondità di 7,5 metri, poi 2 metri sotto la roggia pasquala Farfenga e 3 metri sotto lo scarico Malazzina. L'area era agricola e residenziale, ma da alcuni decenni è anche industriale. Una convivenza complicata. Resta infatti viva la preoccupazione del comitato di quartiere di Cavatigozzi per le eventuali conseguenze dell'aumento di produzione dell'acceeria e dell'inevitabile incremento delle scorie e delle discariche. La costruzione di una centrale elettrica metano proposta una decina di anni fa e poi sospesa è stata smentita da tutti gli interessati durante l'ultimo osservatorio arvedi. Oggi la commissione territorio del comune di Cremona ha dato un parere positivo di conformità urbanistica alla nuova opera.